La conclusione è il palo di Piazza La conclusione è quasi da metà pista La palla all'incrocio Ebbè eccola qua la parata di Reggio Che trova la palla in me A giocare con i compagni La classe 2009 Dentro per Luca Tremolada Qua Cirino Un altro passo adesso Seregno Dall'altra parte Alberio Pasquale che poi carica scarica Molto bene a porta vuota Cosa ha sbagliato La distanza per ricevere il passaggio Infatti Tremolada recupera Pasquale Va da solo per Cirino E dai e dai Il Seregno trova il gol Matti Cirino L'assist di Pasquale Tremolada Mette mezzo la gran pallina Si trova Nel traffico E poi il gol Di Marco Tremolada Dai e dai La pallina che è rimasta A recupero di Cirino Tremolada Cirino Testa a testa Sbaglia anche questa Cirino Adesso De Tommaso Va di là E va vicinissimo Sicuramente il più tecnico Dei suoi Gran lavoro Milazzo e schiaccia E arriva al 3 a 2 Da parte Per Mirto Tremolada Qui travolge Mirto E dunque Il rigore Palla sotto l'incrocio Dei palli Perché Non tiene giù il guanto E il picco Senza Praticamente Fare nulla Per I siberiani Per Moschetti E qui c'è Il fallo Di Moschetti Su Albe Di due minuti Tremolada Si allarga Prova il gancio Traversa Riga fuori Formazione Brianzola Arriva Tremolada E il palo La scuola Per Tessarolo Ottimo L'impura di Moschetti Poi recupera Seregno Tessarolo A 2 2.44 dalla fine Un'altra palla Recuperata da Pasquale E un altro assist Per il 2 Si affida agli uomini Che un po' Attenzione qua Intanto Paltrinieri Reggio Davvero la seconda Si rifugia da Tessarolo Tunnel di Tessarolo E poi Lupi E' nato Tessarolo Dessarolo Dessarolo Un'altra palla Dessarolo Dessarolo Grazie a tutti